ecco ci troviamo in viado de caneso nel cuore di albaro una zona residenziale molto tranquilla molto silenziosa l'appartamento che stiamo visitando è un cinque vani parzialmente arredato oltre a questo divano nella zona giorno abbiamo anche la cucina completamente attrezzata l'appartamento si compone appunto di un ingresso di una zona giorno di una grande camera da letto matrimoniale una dispensa un bagno e una cucina abbiamo tre balconate una in soggiorno un altro balcone nella camera da letto e un altro balconcino dalla cucina vediamo intanto la vista dal balcone della zona giorno l'appartamento è molto in ordine gli infissi sono nuovi non abbiamo la corrente elettrica per cui la dispensa intravede appena ci portiamo a visitare la camera matrimoniale una camera molto grande facciamo una panoramica di questa camera come dicevamo anche qui abbiamo il balcone l'esposizione è sud sud ovest quindi oggi è una giornata bruttissima piove ma la casa è molto molto luminosa ci portiamo in cucina cucina nuova come dicevamo il suo balcone anche esso affacciato sul verde e poi troviamo il bagno con doccia anche il bagno molto in ordine ricapitolando quindi un appartamento di cinque vani porta blindata soggiorno camera da letto bagno dispensa cucina attrezzata e ci troviamo come dicevamo appunto inviato decaneso e qui possiamo concludere la nostra visita grazie